Lavorando con l'universo femminile e soprattutto studiandolo, ho scoperto che anche la chimica cerebrale può avere un ruolo nella maggiore incidenza della depressione delle donne. Così, come i geni e gli ormoni, anche la chimica cerebrale femminile incide decisamente su questo problema che colpisce, in particolar modo, proprio le donne. In molti studi scientifici, per esempio, ci dicono che gli uomini producono il 52% in più di serotonina rispetto alle donne. La serotonina è un neurotrasmettitore importante, conosciuto come l'ormone della felicità. Se il livello scende molto, tendiamo al cattivo umore e alla fase definita depressione. Tra l'altro, alcune ultime teorie affermano che durante la sindrome premestruale ci sia un brusco calo del livello di serotonina, responsabile pertanto del cambiamento di umore delle nostre dolci metà proprio in quel periodo. Cari amici che mi state ascoltando, non solo la vostra, ma Paola, mia moglie, in quei giorni così particolari cambia decisamente carattere e si trasforma da dolce metà a donna insopportabile. Comprendo bene che non lo faccia apposta ed ho notato che proprio in quei periodi mi implora, tra virgolette, di mangiare un pezzettino di cioccolato. Leggendo e documentandomi ho capito che probabilmente è proprio per livellare quel calo di serotonina. Allora, un consiglio a tutti i maschietti all'ascolto. Pur non essendo la soluzione di ogni male, credo che un pezzettino di cioccolato alle vostre signore possa solo far bene. Per un istante non pensate alla linea, pensate al loro buon umore. Io sono Giancarlo Fornai, alla prossima pillola motivazionale. Un abbraccio.